Una sessantina i giovani del vicariato di Asolo e del gruppo scauto di Vicenza che questa mattina nell'oratorio di Casoni di Mussolente hanno preparato i gadget per i partecipanti alla Marcia della Pace e che poi hanno vissuto il confronto con il filosofo Lorenzo Biagi e con il vescovo di Treviso Michele Tomasi. Una riflessione partita dalle loro domande preparate e inviate nei giorni scorsi. Domande importanti quelle dei giovani sul senso della pace e dell'impegno personale di ciascuno per costruire un mondo di pace. Dal professor Biagi l'invito a uscire dalle bolle in cui spesso viviamo e a non rassegnarci all'intollerabile e a entrare in un apprendimento trasformativo capace di cambiare noi stessi e il mondo. In tutte le culture la pace ha a che fare con l'amore è stato detto, la pace è un'utopia praticabile sbilanciata sul futuro ed è la nostra corrente calda, un'utopia che ci fa camminare insieme. Il vescovo Tomasi ha esortato i giovani a fare della propria vita un capolavoro, li ha invitati alla partecipazione alla vita sociale e politica, a costruire insieme un noi più grande che vede negli altri persone amate da Dio. Un noi che dà forza alle istituzioni locali e internazionali perché è la pace, non la guerra, la sola realtà capace di eliminare i conflitti.